Sappiamo qual è il vostro sogno quest'estate, volete riuscire a fare tutto, andare in vacanza, in giro, riposarvi, concludere tutte le vostre faccende e avere a disposizione un look perfetto per ogni occasione. Allora ecco che ci vogliono gli scamiciati. Salve a tutti e benvenuti sul canale Pratiche Sartorelle alla Moda. Siamo letti di presentarvi il nostro nuovo corso molto particolare che stavolta non riguarda un solo capo ma un'intera mini collezione da 6. Nel corso principale è spiegato l'abito smanicato base. Questo qui molto semplice ma che veste benissimo e che ha una gona mezza rotta con le tasche. Da questo poi abbiamo sviluppato altre 5 varianti a cui sono dedicati altrettanti moduli complementari. E' come se non bastasse, abbiamo pure una lezione che illustra e spiega ben 10 modelli diversi a seconda della modellazione delle pants davanti della parte superiore del vestito. Praticamente ottenete con un solo corso una marea di modelli discamiciati. Io lo chiamerei un corso matryoshka, come le tipiche bambole russe in legno contenuti l'una nell'altra che saltano fuori uno alla volta per la sorpresa e la gioia di tutti. L'abito tutto sommato è uno solo, ma cambiando e aggiungendo piccole cose tra quelle proposte, viverebbero fuori un'infinità di modelli e potreste fare la vostra piccola collezione. Sareste in grado di creare un sacco di varianti diversi. Lo direste con tutti, questi 6 abiti in fondo hanno la stessa base. Lo scamiciato numero 1 è stato modellato dalla base delle 10 misure, ma potete usare anche un'altra base buona se ce l'avete già. Basta che sia una buona base controllata e senza difetti e da questo non è difficile ottenere un scamiciato perfetto. Sono convinta che questo corso vi darà grosse soddisfazioni. Vorrei aggiungere anche che il corso è stato pensato per i principianti, ma è utile anche per chi è già esperto. Osserviamo di nuovo lo scamiciato base. Abbiamo il taglio in vita. La parte superiore è stata modellata della nostra base, mentre la gona a mezza rotta è stata costruita senza carta modello direttamente sul tessuto. Abbiamo delle tasche che fanno molto comodo, soprattutto in vacanza ad esempio per tenerci le chiavi delle stanze, ma anche il telefonino o altro, oppure semplicemente per metterci le mani. Le bretele sono sagomate e rimangono sempre in piedi. Sul fianco abbiamo una cerniera invisibile, insomma è tutto molto comodo. Come vedete si apre e lo vesti molto comodo. Lo scamiciato addosso a me in sostanza è lo stesso dell'altro. Il modello della gona con le tasche è identico, solo che abbiamo cambiato il top in tinta unita con la chiusura decorativa davanti e la cintura in contrasto. La forma del top e delle bretele è la stessa e la chiusura con i bottoni, per quanto pienamente funzionante, è solo una questione estetica. Per indossare l'abito usiamo lo stesso la cerniera laterale che è molto più pratica. Potrei tranquillamente chiamare gli scamiciati che abbiamo addosso delle sorelle gemmele, praticamente. Cambiano solo esteticamente, insomma. Vi ho raccontato del mio scamiciato di quello base, ora vorrei illustrarvi anche gli altri. Prendiamo questo qui. Non è per niente diverso dai primi, per quanto riguarda la costruzione, la confezione e la rifinitura della scolatura con la paramontura. La differenza sta nell'aggiunta di questa stupenda balza svasata in tinta unita qui e in fondo della gona. E guardate come cambia l'aspetto. Sembra un altro abito, ma è stato costruito e confezionato esattamente allo stesso modo. Abbiamo solo giocato un po' con il volume e con il contrasto di colore, ottenendo qualcosa di diverso. Praticamente vedete che basta poca fantasia e fate qualcosa di diverso. Ma guardiamo questo. Vedete le bretele sono dello stesso tessuto del volant, quindi si fa diverso. Adesso questo qua invece è diverso perché è bottonato davanti e da cima in fondo. Ha il canoncino davanti e le bretele in tinta unita blu. Qui parliamo dalla massima praticità. Immaginatevi sulla spiaggia o in bordo piscino, ad esempio, non dovete passare il capo attraverso la testa per toglierlo e rimetterlo, ma basta aprire il bottone e farlo scivolare via con eleganza e stile. Rimanendo in costume ovvio, non c'è un compricostume più comodo di questo. Io lo adoro. Nel corso spieghiamo nei dettagli come realizzare la chiusura con il canoncino aggiuntivo, così come i vari volanti. Ma vorrei spiegarvi anche i rimanenti due scammiciati, perché anche quelli sono molto interessanti. Questo che indossa Irisha è un modello molto interessante. La gona è la solita mezza rota, ma con un volano in fondo. Abbiamo una cintura blu, ma la cosa davvero particolare qui sono queste maniche un po' complicate, svolazzanti. Sono leggermente arricciate e le punte sia sul davanti che sul dietro entrano nelle cuciture dei fianchi. Qui al posto delle pens abbiamo fatto i fianchietti. La tecnologia è un po' complessa, ma è illustrata nei minimi dettagli. Con un po' di pazienza si riesce a farle e il risultato merita tutte le fatiche come vedete, perché è un abito veramente molto 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 bello ed elegante anche, potrei dire. Notate anche quanto fascino aggiunge la fascia blu in vita e quanto è bella la balza in fondo alla gona. Qual è la differenza tra questo e con l'altro volant? Nessuno. L'uno è della stoffa dell'abito e l'altro è a contrasto. Sono uguali identici, ma come vedete le scamiciate sono diverse. Vedete? Ho lasciato per ultimo il vestito rosso. Qui abbiamo trasferito la penseno in vita, creando questa doppia pens parallela. Sul nostro canale ne abbiamo già parlato dell'effetto di questa doppia pens, ma anche qui vi abbiamo spiegato tutto in modo molto dettagliato. Lo scopo è creare un volume molto morbido sul seno e vi facciamo vedere tutto il procedimento e tutte le sfumature. Come notate qui è tutto molto fluido, senza punte. Io stessa non amo affatto la pensapunta e cerco sempre di trovare una soluzione a questo inestetismo, soprattutto quando il seno è molto grande. Anche qui abbiamo la gona a mezza rotta, ma allunga fino quasi a terra. In fondo al posto della balza svasata abbiamo un importante volante arricciato e guardate quanto ci sta bene. Si abbina alla manica leggermente arricciata dall'elastico in alto. Vi facciamo vedere ogni passaggio su come creare una manica del genere. In molti credono che si tratti semplicemente di una striscia dritta e un po' ripresa, ma non è assolutamente così. Nella parte bassa la balza è attaccata nel giro manica del corpino. È una manica vera e propria che viene inserita nel suo giro manica come al solito, quindi ha proprio la forma di una manica che pure è svasata ed arricciata in alto. Ma niente panico, ci è spiegata e fatta vedere ogni cosa, è molto nei dettagli. Sicuramente è possibile fare una manica simile che anche in un modo più rudimentale e primitivo, ma noi amiamo il nostro lavoro e le cose fatte bene. Invece di prendere delle scorciatoie ci siamo messi in discussione e vi abbiamo tirato fuori questo modello e la tecnologia di questa manica. Noi siamo stati a replicare le tasche anche qui. Anche questo abito è un po' più elegante degli altri, per cui non abbiamo inserito le tasche. Alla fine abbiamo realizzato ben sei scamiciati, ma potevano essere molti di più ed è la prima volta che facciamo un corso strutturato in questa maniera, ma ne siamo molto felici ed è veramente un piacere per noi presentarvelo. Potete prendere solo il corso base, che spiega il modello base dalla modellazione alla confezione senza pensieri insieme a noi, ma potete scegliere anche qualche modulo a seconda del modello che vi interessa, ad esempio come fare una di queste maniche, il volant, le chiusure con i bottoni, eccetera, oppure potete prendere anche tutto insieme con uno sconto molto conveniente. Comprate il nostro corso, cucite con noi e abbiate un'estate vivace e allegra.